Sanzioni per 900.000 euro ad Apple, responsabile di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori. Le ha decise l'antitrust al termine di un'istruttoria che ha provato che la società non applica ai consumatori la garanzia legale biennale. La Apple è stata condannata per le informazioni poco chiare sulla copertura dei servizi di assistenza aggiuntiva a pagamento. Tutto questo è partito da Trento e per la precisione dal centro di tutela dei consumatori. Per parlarne con noi c'è Carlo Biasior, legale del centro. Buonasera, innanzitutto grazie per essere qui con noi. Appunto, com'è partito tutto questo? Andando a fare un acquisto di un iPod nel negozio di Via Cavour, mi è stato proposto di aggiungere al primo anno di garanzia un secondo anno a pagamento. Questa cosa non è possibile, esiste una legge molto chiara, due anni di garanzia e indiscutibilmente da far valere nei confronti del vendito. E invece la Apple? La Apple in realtà è stata confermata con questa pronuncia, ha dimostrato che esiste un accordo all'interno del gruppo Apple, tra i vari distributori, per non dare al consumatore quello che gli spetta gratuitamente per legge, cioè far pagare sostanzialmente i prolungamenti di garanzia. Quindi garanzia di un anno più il pagamento per il prolungamento del secondo anno. Esattamente. Tutto questo che cosa comporta? Tutto questo comporta intanto un cambio di prassi da parte dei rivenditori, quindi adesso tutti i clienti e i consumatori Apple avranno una garanzia biennale che prevede sostituzioni e riparazioni gratuite e se verrà confermata questa condanna nei tre gradi di giudizio ci saranno i presupposti per i singoli consumatori per chiedere la restituzione dei soldi pagati per l'estensione di garanzia, la famosa Apple Care. Grazie a Carlo Biasiore e buon lavoro. Grazie a tutti.